musica 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 guarda, se le fai vedere questa immagine tu mi dici che ne pensi ma perchè piante musica 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 questa legge, seppur menomata, renderà le unioni civili una realtà in Italia musica cambiamo in questo modo, dal diritto di famiglia, al diritto delle famiglie incredibile essere accusati di voler distrugge l'istituto della famiglia per chi chiede semplicemente una famiglia di poterla costituire alla luce del sole. I vostri compagni vi domandano mai chi sono i vostri genitori? Dicono, wow, oppure io vorrei due papà. No, no, una mamma, una zia che mi ha portato nella pancia. Sì, però allora direi, ma tua mamma è morta. No, allora sono proprio di caccia. La relazione che noi abbiamo con Cynthia e Amanda, che le persone continuano a chiamare le mamme. Ha bisogno di un altro nome. Che non ha pensato? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.